Mario Pacali, informatore vigevanese, siamo sul cantiere del ponte, un ponte che è stato completato, è stata applicata anche questa particolare protezione, ma questo lo chiederemo al geometra Carlo Bruggi che è il capocantiere. Oggi siamo qui per parlare di un intervento ulteriore, che è quello della difesa spondale. In che cosa consistono queste operazioni geometra? Buongiorno, consistono nella posa di blocchi a dimassi a protezione della sponda ai fini di evitare che il fiume vada poi nelle piene a dover erodere il bosco, tutte queste cose qua. Su quest'area qui, dove in Ghiaia verrà poi fatta una mitigazione e compensazione ambientale dove verranno piantate delle piante, delle talee, in modo che viene ripristinato il bosco nelle vecchie condizioni in cui era pre-2010, tanto per dare a delle date. E quindi, diciamo che sono le ultime opere che vengono fatte per il completamento dell'opera, perché nelle progette non c'era solo il completamento mero del ponte, cioè i famosi 23 metri mancanti, ma bensì c'erano tutte delle opere annesse tra i quali anche questa e uno scavo di un'inaleviazione per permettere di andare a alimentare le aree umide legate alle darsene e queste cose. Questo era un po' il completamento del progetto al di fuori del ponte. Come ha detto lei bene, è stata fatta una protezione anticarbonizzazione, in modo che vengono sigillate quelle microfessure del calcestruzzo e dare anche un aspetto estetico omogeneo. Questo è un po' il discorso. Ecco, una cosa, uno dei valori aggiunti, ricordiamo un'intervista dell'allora presidente della provincia Poma, riguardava appunto, uno dei valori aggiunti del progetto, riguardava appunto la difesa spondale, ma soprattutto, diciamo così, non la canalizzazione, ma l'orientamento del fiume verso Milano. Allora, il discorso dell'orientamento del fiume, se voi vedete i vecchi passaggi sul vecchio ponte, danno proprio la canalizzazione del fiume lungo questo senso. Quindi il dover ripristinare delle sponde con materiale a riporto senza proteggerle sarebbe come non farle. Quindi non è, almeno, non credo che sia nell'intenzione del progettista di incanalare il fiume, perché poi il fiume va un po' dove vuole, ma è un discorso di proteggere a delle sponde al fine che il fiume passi sotto il ponte, insomma, fondamentalmente, e proteggere il bosco. Questo è un po' il senso di queste cose qua. Ecco, l'ultima cosa, per il completamento vero e proprio del viadotto, a questo punto cosa manca? L'asfaltatura, le finiture? Allora, il completamento del viadotto come struttura è finita, cioè nel senso che le strutture proprio in cemento armato sono finite. Mancano sempre queste opere di finitura, dipingere gli archi, quindi fare una pulizia degli archi, dipingere gli archi, e quello dovremo andare a aspettare che la stagione... Quindi si prevede attorno a febbraio? Ma sì, esatto, poi vediamo come va il tempo, magari se il tempo viene bello possiamo anche cominciare prima, però insomma, quella è la stagione. Fare il manto d'asfalto sopra, mettere ai parapetti, barriere e queste cose. Diciamo che sono le classiche opere di completamento al ponte, insomma, basta, insomma, la struttura è finita, insomma. Diciamo che per la primavera potremmo avere il ponte... Insomma, direi di sì, il ponte è finito, bello pulito e basta. Grazie Geometra, grazie a voi.